Corre anche quadrato, Flaovic ha sportellate con Ismaili, adesso la difende, lo attacca anche Parisi, la tiene Flaovic Segue l'azione da molto vicino a Allegri, si prende un importantissimo grande rinnovazione Grande, grande Lucian, grande, corsio come Gassau Questa risultanza sembra prendersi la Juve sulle balle, lavoro di suono fantastico, grande attaccante L'attaccante che si è presperto ha appena poco più di 22 anni Il risultato perché c'è la demolizione Parco 2 Il bu è scaduto Sì 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 Tanta, tanta sofferenza Tutto, tutto Dujan Flaovic Ma la sofferenza Dai Sì o porco E va! I ballottaggi in essere e dunque a centrocampo Play davanti alla difesa non Locatelli bensì Artur in attacco non Morata come aveva detto Allegri in conferenza stampa che dunque riposa in campo Moise Ken. Andiamo a fare ordine come sempre chiaramente ve la metto in grafica 4-3-3 con Scesni in porta difesa con Danilo Bonucci dell'Ict Pellegrini a centrocampo Zaccaria Artur Rabiot in attacco quadrato Vlaovic e come detto Moise Ken. Ha parlato Netved nel prepartita con la voce rotta dalla commozione per quello che sta chiaramente accadendo in Ucraina e ha detto, riferendosi ovviamente alla partita di stasera, non è una partita importante, è una partita semplicemente decisiva e davanti stanno avendo forti crisi di identità. Adesso metto la maglia nera perché stasera si gioca con la maglia nera, arriva il mitico Ale, la nostra personale live reaction di Empoli Juventus. Empoli Juve, 27esima serie a team, live reaction fino alla fine, vamo Juve! Dai Gesù! Caccio mondo! Dai, 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 dai! Bello! Porco il zio! Porco mondo ladro! Porco 2! Adesso qui sto divendo un fenomeno oggi, qui sto divendo, vedrai tu! Vedrai tu! Corruendo! Bello! Guarda Vlaovic! Guarda Vlaovic! Porco zio! Ci ha provato! Ci ha provato, sì, porco 2, peccato! C'è peccato la borsa! sta pene... Ma ecco la mamma ha sistemato! Bello! Il senso è buono? Il senso è buono, Dabbu? Sì, sì. Che è successo? Abbiamo pigliato con? Bisogna essere fatto male a Zacarie. Cazzo dei nervi, guarda che cazzo dei nervi. Questo è fatto, avessimo pigliato pure lui con me, guarda. Non si può vedere le partite in cucina, guarda. Non si può vedere le partite in cucina, non si può vedere le partite in cucina. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Aslani lascia scorrere poi Arpettino, ho capito come zona di anticipo. Adesso trova Quadrado, parte la Juve. Davanti con Flawich anche Ken, Quadrado punta, Quadrado non va dentro. Adesso da Flawich, fint. Sì! 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 un tempo se ne va seguiamo il secondo tempo sul telefono perché il primo e qui c'è maltempo è stato una porcheria e me scuso per la live reaction perché sin qui è stata una porcheria però se non altro ci siamo visti i gol mi è arrivato una volta prima sullo cellulare che sullo computer mi è arrivato lasciamo perdere bravo bravo Moise bello 4-2 centrale bello buono no 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 bonucci sulla linea parisi regiuto da aslani cross nel cuore dell'aria pallacca schizza guarda porco zio ladro porco zio ladro guarda ma è incredibile oh ma è incredibile oh ma è incredibile oh no 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 no